Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Perché Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sono lasciati? Ecco tutti i retroscena riguardo la fine del loro matrimonio e il motivo Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa.Ritta Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati sposati per diverso tempo Nonostante i dieci anni di differenza che c'erano tra i due, si sono innamorati e sono rimasti sposati dal 1992 fino al 2002 Una relazione lunga e importante per entrambi.Inoltre erano anche chiacchieratissimi, e non il bene, in molti li criticavano soprattutto per i dieci anni di differenza d'età Lui era molto più giovane di lei. Purtroppo Frizzi ci ha lasciati diversi anni fa, nel 2018, a causa di un malore Tuttavia ancora oggi a molte persone piace ricordare la persona che era e le vicende a riguardo. L'ex moglie ne parla con parole dolcissime. Ecco cosa dice riguardo al durissimo momento della loro separazione Rita Dalla Chiesa racconta la fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi Il matrimonio tra la giornalista Dalla Chiesa e il noto presentatore ha finito ormai vent'anni fa, nel 2002, ma ancora se ne continua a parlare È stata una relazione molto chiacchierata per diversi motivi, e anche il matrimonio lo è stato Potrebbe interessarti anche, Carlotta Mantoban, dopo Fabrizio Frizzi ritrova l'amore per la vita Fabrizio Frizzi. Potrebbe interessarti anche, Fabrizio Frizzi, spunta la verità, l'ultimo gesto prima di morire commuove tutti L'amore tra i due c'era, ma durante un periodo di debolezza della coppia Frizzi conobbe un'altra donna, molto più giovane di lui, da cui ebbe un figlio e si sposò Divorziare era senza dubbio la cosa giusta da fare.La donna ha raccontato con molta amarezza questa vicenda Nonostante il divorzio era inevitabile, c'è ancora un po' di nostalgia e di rabbia quando parla di Frizzi e del fatto che qualcuno si sia potuto mettere tra loro Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. È stato per colpa di una di queste signorine, che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli Lei ha avuto gioco facile, ma poi non è durato. Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video